Galleria del Comelico, ANAS, apre alla sistemazione della strada della valle. Il tavolo in prefettura tra i soggetti interessati ha consentito di fare un ulteriore passo in avanti sulla vicenda che da tempo infiamma sindaci, comitati e cittadini del territorio. E giunge la novità, i lavori di messa in sicurezza al traforo saranno posticipati in attesa di rendere percorribile la strada che costeggia il tunnel per fare in modo che il cantiere possa partire senza creare troppe complicazioni. È stato deciso di riconvocare questo tavolo tecnico entro fine mese per stipulare un protocollo che dovrebbe produrre il risultato di avere un finanziamento, un progetto e una tempistica che possano evitare quella che noi chiamiamo essere una calamità prospettata. Stiamo parlando di un 60 milioni per riaprire la vecchia strada, seppure a Stralci. A farsi portavoce delle esigenze del Comelico anche il ministro d'Inca che si dice soddisfatto dei risultati raggiunti grazie agli innumerevoli incontri di concertazione tra le parti. È chiaro che di base c'è un confronto sulla strada di valle, quella esterna, sulla quale occorre operare per una corretta manutenzione e attraverso una progettazione che ANAS vorrebbe mettere in opera. Oltre a questo vi sono delle verifiche ulteriori per quanto riguarda il passaggio senso unico alternato in determinate ore della giornata. Oggi ho visto disponibilità da parte di ANAS di fare dei ragionamenti, ringrazio il ministro che ci è vicino in questo percorso che sicuramente non è semplice. Adesso stiamo aspettando un attimino che venga completato quello che è lo studio di prefattibilità, diciamo così, che è stato assegnato ad un'equip di studiosi e di esperti. Alla luce di questo poi faremo delle valutazioni se poter utilizzare quei soldi che sono stati destinati a Coltrondo oppure avere una somma aggiuntiva in modo da poter garantire un investimento che è la priorità in questo momento assoluta insieme all'intervento nella Galleria.